All'avvocatessa De Pace ha chiesto, lei ha mai tradito? Sì, no, l'ho detto una volta, sì, sì, mi è capitato. È successo? È successo. È stata mai tradita? Ma, sicuramente, non lo so, per certo, ma sì, ma nella vita... Ma sfiducia del genere maschile... Ma vabbè, ma i rapporti sono complessi, non è che... No, ma come io dico, è mai tradito? Ti dico sì, se poi è stata tradita, ma sicuramente sì. Non crede nella monogamia? Non so dove, come e quando. No, io penso che la vita non è ordinata e che quindi ci possa stare, che non è che uno perché stacca una persona, capito, atrofizza pensieri, cuore, muscolo e altro, cioè... È interessante questo.